Eccoci tornati ad un nuovo appuntamento con cronache e commenti, la regione toscana, il consiglio regionale visto dalle nostre telecamere. Andremo a toccare alcuni dei temi che sono stati dibattuti in consiglio regionale negli scorsi giorni, ma andremo anche a vedere la consegna del gonfalone d'argento e tanto altro. Dunque, come sempre, vogliamo iniziare dai titoli principali per andare ad analizzare e a capire meglio quali sono i temi specifici che toccheremo oggi. Torniamo a parlare della seconda variazione di bilancio. Torniamo a parlare della seconda variazione di bilancio approvata nell'ultimo consiglio regionale a maggioranza, con i voti di PD e Italia Viva e quelli contrari di tutto il resto dell'opposizione. Una manovra complessa che porterà nuovi finanziamenti per opere pubbliche ad alcuni comuni e territori, mentre per la sanità si evidenzia la necessità di ulteriori risorse in arrivo dall'addizionale IRPEF. Ma è una manovra che prevede molti altri punti esposti dal consigliere Bugliani. Rispetto a sette giorni fa andiamo ad ascoltare altri pareri su quanto approvato in aula. Tante le risposte che vengono date, specialmente per quanto riguarda gli impianti sportivi. Noi abbiamo deciso in questi anni di investire molto sull'impiantistica sportiva perché è un modo per dare risposte non solo ai singoli territori ma anche alla socialità più diffusa. Interventi sulle scuole, anche questo è un tema che sta molto a cuore. Se noi offriamo alle bambine e bambini toscani delle scuole migliori sono convinto che anche la loro qualità dell'apprendimento nel tempo può crescere ed è da tanti anni che non si sveste molto negli impianti sportivi, nell'edilizia scolastica e queste sono le scelte principali che abbiamo portato avanti in questa variazione di bilancio cercando di porre sempre attenzione a quei territori che soffrono un po' di più, quelli che sono un po' più indietro perché poi l'idea della Toscana diffusa passa anche attraverso le azioni che noi facciamo e si vede benissimo in questa variazione di bilancio. La variazione di bilancio stamattina è la Toscana diffusa che intende Gianni, cioè dare il giro per la Toscana e lasciare qualche mancetta da qualche centinaia di milioni di euro in qua e là a secondo di chi sono quelli che si incontrano senza un principio logico e senza una strategia programmatica di base. Tutto questo succede alle porte di una nuova disastro IRPEF perché non c'è all'orizzonte nessuna possibilità che venga riabbassata l'addizionale IRPEF che aveva portato 200 milioni in più per coprire il buco di bilancio quindi lo annuncio ai cittadini toscani anche nel 2025 avrete, avremo l'IRPEF come l'abbiamo avuto nel 2024 perché le promesse della maggioranza di Gianni di fare una razionalizzazione della spesa pubblica specialmente in ambito sanitario non sono state assolutamente, non hanno avuto assolutamente seguito, sono state completamente disattese. Vi ricordate quando Gianni disse specialmente ai sindacati convoco i direttori generali, convoco le aziende e da lì troviamo il modo di risparmiare 200 milioni su una spesa di 13 miliardi della regione toscana? Non è stato fatto nulla e continueremo a gravare sulle tasche dei cittadini. Naturalmente il nostro è un giudizio critico in quanto ormai in quattro anni siamo abituati a vedere variazioni che sostanzialmente sono il frutto di interventi estemporanei in totale assenza di una cornice programmatica. A nostro giudizio siamo di fronte ancora una volta alla non presa di coscienza su alcuni problemi come dire strutturali, non siamo intervenuti diversamente da come era stato promesso sulla riduzione della pressione fiscale, continuiamo ad andare avanti quindi con un'IRPEF aumentata da una parte ma dall'altra parte non siamo stati ancora capaci di mettere le basi di una seria programmazione in sanità e soprattutto di un serio contenimento della spesa. Noi abbiamo circa 7.700 centri di costo in Toscana, lo sforamento della spesa per i dispositivi medici che poi porta anche a far gravare il famoso payback sulle aziende sanitarie ha un peso assolutamente rilevante oggi ancora sul bilancio regionale, non stiamo cogliendo sfide importanti come le sfide sulle infrastrutture, pensiamo ancora ai nodi che riguardano le tante criticità sulle linee ferroviarie, pensiamo ancora alle infrastrutture che devono essere completate, notizie di oggi ancora ci riportano in una Toscana che dove diciamo spostarsi è diventato un incubo, non siamo intervenuti sul tema del futuro della sostenibilità energetica, abbiamo un contesto economico difficile, tante crisi aziendali, abbiamo perso di vista completamente il consigliere speciale che era dedicato come dire a gestire situazioni che oggi invece in Toscana non sono certo risolte e non è solo la questione della GKN, oggi pensiamo al settore dell'artigianato, del commercio, di piccole e medie imprese che soffrono dalle pelletterie, a tutta una serie di situazioni in cui davvero ci aspettavamo una manovra finanziaria che desse il respiro ampio e intervenisse in modo strutturale. Si è trattato di una discussione molto articolata perché in un unico intervento abbiamo dovuto condensare un giudizio su quattro provvedimenti, due di carattere programmatorio e gli altri due invece legati al bilancio 2024. In particolar modo la variazione si riferisce a tantissimi interventi puntuali sui quali è difficile dire di no per ogni singola questione ma è chiaro che il presidente Gianni ormai ha iniziato la sua campagna elettorale e la sostiene con interventi mirati soprattutto a favore di amministrazioni di un certo indirizzo politico. L'Aula del Consiglio regionale ha approvato con 28 voti favorevoli di Italia Viva PD, 5 Stelle, Fratelli d'Italia, Astenuti, Lega e Gruppo Misto, la legge regionale che introduce nuove misure a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni residenti fuori dal nucleo familiare di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. La legge è stata esposta dal consigliere Enrico Sostegni. Riguarda i care leavers cioè quei giovani dai 18 ai 21 anni che sono stati per provvedimento dell'autorità giudiziaria allontanati della famiglia. Fino a 18 anni sono nelle strutture, poi dopo i 18 anni con la maggiorità si trovano a dover affrontare da soli l'autosufficienza quindi tutti i temi di trovare proprio sostentamento, dove abitare eccetera eccetera. C'è un progetto già del Ministero riguardo l'assistenza e l'aiuto di questi giovani tra i 18 e i 21 anni con questa legge che il Consiglio regionale ha approvato istituiamo un fondo di 500 mila euro con il quale andiamo a, essendoci alcuni requisiti, quindi oltre al provvedimento dell'autorità giudiziaria che l'allontana dalla famiglia, un ISEE non superiore a 9.300 euro e altre condizioni che se sussistono danno diritto a un sostegno all'affitto che va dai 2.700 euro fino a 4.300 euro a seconda che ci siano anche carichi familiari. È un provvedimento importante perché ovviamente aiuta giovani che per motivi non dipendenti dalla loro volontà si trovano a non avere il sostegno che normalmente si ha con l'aiuto del nucleo familiare. A margine del Consiglio regionale il Presidente del Consiglio Antonio Mazzeo ha consegnato il gonfalone d'argento all'Istituto Lama Tsong Kapa per l'impegno profuso nel cercare il dialogo fra popoli. L'Istituto, che ha sede a Pisa, è un centro internazionale per lo studio e la pratica del buddismo tibetano, tra i più importanti d'Europa. Un riconoscimento proposto dal consigliere segretario Diego Petrucci, presente alla cerimonia e votato all'unanimità dall'ufficio di presidenza dell'Assemblea Legislativa. Il fatto che il Consiglio regionale della Toscana voglia dare un riconoscimento così importante, il massimo riconoscimento che può dare il Consiglio regionale all'Istituto di Pomaia è sicuramente una bella notizia. Il buddismo è una fede pacifica che crede nel dialogo anche interreligioso. Noi già nella scorso 30 novembre per la festa della Toscana avevamo invitato i rappresentanti delle religioni monoteiste qui in Consiglio regionale per festeggiare la Toscana. Io ho la carica di direttore da due anni ma conosco l'Istituto da quando sono nato perché i miei fanno parte della vecchia generazione che hanno incontrato l'Istituto alla fine anni 70 quindi conosco da sempre l'Istituto ma soltanto da due anni ho l'onore e la responsabilità di condurre la direzione all'Istituto e questi due anni da ingegnere nazionale quali sono sto cercando di portare avanti tutto un sistema di processi, di organizzazioni aziendali. L'Istituto ha cresciuto tantissimo in questi 40 anni quindi richiede anche un'organizzazione complessa, la collaborazione di tutta la staff, dei volontari quindi l'impegno è andare a migliorare tutta la nostra struttura interna per poter offrire sempre meglio un servizio in maggiore qualità verso l'esterno, verso le persone che vengono da noi e hanno ormai un'aspettativa altissima. Quindi abbiamo l'impegno di non deludere. Portiamo avanti un lavoro che va avanti da quasi 50 anni, il 2017 saranno 50 anni e è un lavoro per cui tutte le direzioni precedenti, le presidenze precedenti hanno messo il massimo dell'impegno per portare avanti questo lavoro e quindi un ringraziamento intanto a tutti a tutti che in questi 45-47 anni hanno dato il loro impegno massimo per portare l'Istituto dov'è ora in questo momento. Il cammino sarà sempre più importante, le aspettative sono sempre più alte, gli impegni che abbiamo sono sempre di più e quindi c'è da lavorare ma abbiamo uno staff veramente meraviglioso, i volontari che decidono di passare il loro tempo e la loro energia a sostegno dell'Istituto sono fantastici ed è così bello oggi vedere che il lavoro svolto in questi 45 anni si è visto, si è riconosciuto, quindi siamo enormemente grati del riconoscimento che abbiamo avuto questo giorno. Grazie a tutti veramente. Tra le attività del Consiglio regionale questa settimana si è svolto anche il taglio del nastro dell'Internet Festival attivo fino al 13 ottobre. La rassegna dedicata alla rete che si è svolta a Pisa ha visto toccare tutti i temi principali del momento, dall'intelligenza artificiale alla robotica all'industria 4.0. La Regione Toscana è l'unica ad aver approvato quattro anni fa, io primo firmatario, una legge a sostegno dell'innovazione, delle start-up innovative da finanziamenti a fondo perduto per chi ha un'idea nel mondo dell'università e della ricerca e riesce ad avere fino a 50.000 euro per poter partire e trasformare quell'idea in valore, in impresa. E poi il finanziamento, il sostegno alle imprese innovative che riescono a trovare dei finanziatori. La Regione immette le stesse risorse che l'imprenditore, che il soggetto privato investe sull'azienda innovativa. E poi il processo di internazionalizzazione per costruire un nuovo mercato e il premio innovazione per mandare un messaggio chiaro alle imprese innovative. Il rischio di fallire è alto, ma il fallimento non è un peccato. A volte dal fallimento si impara, si può cadere e ci si può realzare. Questo è il messaggio che voglio mandare alle ragazze e ai ragazzi più giovani. Provate, scommettete sul futuro, costruite cambiamento e noi saremo al vostro fianco. La Toscana ha davanti, come credo tutta l'Europa, forse tutto il mondo, una sfida incredibile, nel senso che questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale e anche dell'energia sono due sfide epocali che cambieranno il mondo. È chiaro che noi non possiamo stare a aspettare. La Toscana ha due punti di forza enormi. Uno è il suo sistema innovativo legato alle università, al CNR, ai centri di ricerca, ancora di eccellenza a livello internazionale e quindi la capacità di spingere questa conoscenza verso un'economia, un fatturato, posti di lavoro. Le startup toscane negli ultimi anni sono cresciute moltissimo come ambizione, come mercati, come voglia di diventare quello che si dice unicorno in gergo, quindi aziende che valgano da un miliardo in su. Non per i soldi in sé, ma per il tipo di crescita esponenziale che ci si immagina da tecnologie di questo tipo. Questa è la priorità a livello di innovazione, cioè portare i nostri innovatori all'interno di un ecosistema mondiale che è molto veloce e nel quale possono competere molto bene. La seconda priorità e la seconda sfida è quella della Toscana, diciamo del passato che si sta aggiornando a grande velocità, quindi la trasformazione digitale del made in Italy, della moda, del cibo, del marmo, della pelle, tutto ciò che è stata eccellenza toscana in passato e che con le nuove tecnologie può accelerare ulteriormente. Anche questo, il tema della trasformazione digitale, Toscanix 1.0 serve a questo, è la sfida che permette alla Toscana attuale di continuare a essere leader nel mondo, nei settori in cui lo è sempre stesso progetto. Devo dire che in questo senso la regione toscana è sempre molto vicina alle idee, anche l'incontro di oggi è stato un importante momento di scambio e di raccolta anche di quelle che sono le esigenze del territorio, le esigenze degli imprenditori e quindi gli strumenti che la regione può mettere poi a disposizione, veicolando anche i fondi europei che poi sono la parte diciamo preponderante per realizzare questi progetti e poterli portare a realizzazione. È tutto da Cronache e Commenti, l'appuntamento è fra una settimana per andare a raccontare quello che succederà nel Consiglio regionale, tra l'altro prossima settimana il Parlamento toscano si riunirà e dunque con le nostre telecamere e i microfoni andremo a raccontarvi quello che sarà dibattuto in aula. Grazie a tutti! Grazie a tutti!